Nasce a Napoli nel 1930. Frequenta il Conservatorio di San Pietro a Maiella della sua città e nel 1950 vince una borsa di studio messa in palio al teatro alla Scala di Milano e gli vengono affidate piccole parti di tenore nella stagione lirica. Nel 1952 partecipa e vince un concorso per voci nuove organizzato dalla RAI ed entra così a far parte dell'orchestra del maestro Giannini e successivamente canta accompagnato da Giuseppe Anepeta. Luigi vince e prende parte a diverse trasmissioni radiofoniche interpretando canzoni napoletane. Nel 1954 vince il Festival di Napoli con il brano Suonno d'amore. Eseguito in coppia con Achille Togliani un brano elegante del maestro Francesco Saverio Mangieri. L'anno seguente si aggiudica il primo e il secondo premio al Festival di Sanremo interpretando. Buongiorno Tristezza di Mario Ruccione Giuseppe Fiorelli e il Torrente. In coppia con Claudio Villa. E ancora al Festival di Napoli il terzo premio con E.L. Lampare ripetuto da Gino Latilla. Nel 1956 partecipa al concorso radiofonico le canzoni della Fortuna interpretando la canzone di. Fragna Signora Fortuna e nel 1962 l'amore avessera essere la canzone con la quale vince il. Festival di Zurigo scritta da Totò. Antonio De Curtis. In gara con lui anche Achille Togliani. Luciano Taioli. Nilla Pizzi ed Ernesto Bonino. L'attività prosegue con programmi tv come canzonissima e vari recital in Italia ma. Con l'avvento dei nuovi stili e ritmi. La sua popolarità diminuisce. Intraprende comunque varie tournée nel mondo. Dall'Australia al Giappone. Dagli Stati Uniti alla Francia e dalla Spagna. Dal 1970 riprende pienamente l'attività operistica cantando nei maggiori teatri italiani e stranieri come la Scala di Milano. La Carnegie Hall di New York. Il teatro San Carlo di Napoli. L'opera di Genova. L'opera di Roma con direttori come Oren. Patanè. Bartoletti. E i registi Bolognini. Ronconi. Muore di cancro nel 2001. Ricordiamo la sua partecipazione alla Fausta di Gaetano Donizzetti nel 1980 al fianco di Raina. Caba Ivanskay di Renato Brunson al Teatro dell'Opera di Roma e alla Lucia di Lammermor sempre di. Donizzetti. Questa volta con Mariella De Via e il grande tenore spagnolo Alfredo Krauss diretti da Franco. Mannino nel 1990. E l'edizione della Turando di Giacomo Puccini con Gena Dimitrova. Nicola Martinucci. Cecilia Gasodia. Roberto Scandiuzzi. Diretta da Daniel Oren. Nel 1989. Incisa anche su CD Nuova Era e Arts. Dal 1997 al 2001. E ospite in varie puntate della trasmissione televisiva. Ci vediamo su Rai 1. Condotta da Paolo Limiti. Nel 2001 l'etichetta River Records pubblica un CD intitolato 70 miglia da tanto. Con 26 brani registrati in diretta per i suoi 70 anni e di 50 di attività artistica con. L'accompagnamento al pianoforte del maestro Roberto Negri. Fra i suoi successi ricordiamo. Suono d'amore. Primo premio festival di Napoli 1954. Buongiorno tristezza. Primo premio festival di Sanremo 1955. Il torrente. Secondo premio festival di Sanremo 1955. L'amore avvesra essere. Primo premio festival di Zurigo 1962. Eternamente tu. Primo premio festival di Zurigo 1963. L'ampare. Terzo premio festival di Napoli 1955. O sole mio. Torna surriento. O surdato innamorato. Funiculi funiculà. Te voglio bene assaie. Marecchiare. I te vurria vasà. Non penserò che a te. Bruna Maria del Porto. A iere sera. Ad duormete. Note d'amore. Pianura. Torna maggio. Popolanella. Filidoro. Nume guarda. Speranza. E arre rose chiagneno. Chiagneno pure l. 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 Onne. Luna innamorata. Torna moce. K. N. Contra.